105 friends dobbiamo prenderci un appunto dobbiamo dirci che non possiamo dire tutto prima della fuori onda se no poi dopo abbiamo già detto tutto ho capito ma quando incontri un amico è così ci si divora di argomenti tutte le cose che non ci siamo detti da quando non ci vediamo signori Francesco Gabbani eccoci ciao come stai? sto benissimo ma in giro per l'Italia sto benissimo ovviamente con quella giusta e sottintesa stanchezza ma è una stanchezza positiva non mi voglio lamentare cercasi firmatore conto terzi perché il povero Gabbani ha il braccio anch'io lo sa un po' si però fa parte del gioco è già qualche giorno che sono in giro appunto con gli appuntamenti firma copia in store di questo album nuovo che è uscito che si intitola Viceversa proprio come la canzone che ho portato al festival di Sanremo quindi la canzone come si diceva una volta è la title track esatto che fra l'altro così dico faccio subito questa osservazione che non è che ho voluto intitolare l'album poi viceversa per una questione di malizia e furibizia comunicativa dato che era la canzone che portavo al festival ma perché ben si presta ad identificare un po' ben si presta ben si presta a identificare un po' il concetto di tutto questo album che parla sicuramente di condivisione del rapporto tra l'individuo e la collettività a proposito di condivisione sei stato a casa a fare il firma copie cioè nella tua città com'è andata? è andata benissimo perché io voglio benissimo i miei concittadini loro hanno dimostrato di venermi tantissimo bene è venuta a tutta la città è stato il firma copie più lungo credo della storia tipo sette ore in piazza ma io mi chiedo io mi chiedo avendo avuto piccolissime esperienze di firma copia per delle cose che ho fatto con numeri probabilmente diversi e non così oceanici e io nella mia diciamo ansia di essere un po' creativo volevo scrivere una dedica personalizzata per ognuno buonasera tu scrivi ciao Francesco non è che scrivi ciao no io ho detto Francesco Gabbani dopo un po' non so cosa scrivo secondo me viene a fare il rosso ramazzò c'è qualcosa c'è scritto qualche altro no non è vero no però siccome mi fa anche sempre piacere dedicarlo veramente alla persona quindi chiedo il nome e metto il nome però dopo un po' è un casino però del resto quando ti sbagli scambiatevi lo faccio no però insomma è molto piacevole ci credo ma è complicato però aprire l'album allora il tuo cd innanzitutto ha una mutanda come hai detto tu quello che io chiamo mutandina è la cover della cover è una contro cover così levate le mutandine a Gabbani esatto e poi le fenne potrebbe essere anche un'operazione interessante però parliamo del disco e poi l'interno e poi l'interno il book l'interno per non togliersi niente per essere particolari ecco oltretutto il booklet che ho imparato a dirlo ieri l'altro fra l'altro era difficile booklet booklet è particolare perché è metà del formato diciamo quello standard quindi che io infatti lo chiamo dopo la mutandina che è fuori che la togli il booklet per me è il bugiardino che assomiglia un po' al bugiardino infatti prima riflettevamo anche sul fatto che adesso quando l'artista diciamo cresce il pubblico cresce con sé c'è un momento spartiacque della carriera in cui devi cominciare a pensare che chi ti ascolta magari legge dal corpo 8 in avanti il carattere bisogna è una forma di rispetto infatti vado contro tendenza perché invece di fare i booklet più grandi l'ho fatto sempre più piccolo però potremmo fare una dimostrazione pratica però stavo pensando eventualmente siccome esiste anche una deluxe version che ora mi dispiace che non abbiamo invece diversa che particolare perché quella si apre a fisarmonica e quella è gigante quella c'è un booklet infinito che va a compensare quello di questa versione senti Francesco terzo Sanremo e diciamo primo fuorionda in questo lungo fuorionda piacevole che abbiamo avuto che quando va a Sanremo tu fai il primo o il secondo cioè non ti muovi da quelle posizioni e sono contento dico la verità di essere arrivato secondo perché tanti dicono ah dovevi arrivare primo perché poi tra i dati con i dati alla mano della giuria del voto della demoscopica e del televoto in realtà risulto io con il 13% com'è sta roba la votazione che è stata decisa in questa edizione del festival è che unisce ovviamente è una somma una media tra il voto demoscopico e del televoto e quello della sala stampa e quindi insomma il risultato di Odato vincente che fra l'altro io sono contentissimo che è un collega che stimo tantissimo un cantautore vero che è uno di quelli che ha fatto un po' la gavetta come ho fatto io ecco non è stato preso e messo lì ecco mi piace ma tu ti aspettavi di arrivare nei primi posti in realtà no in realtà no perché vi spiego perché perché in realtà io ho scelto di tornare a Sanremo proprio perché ho scritto questo brano viceversa che sicuramente è stata un'occasione per mostrare al grande pubblico diciamo un mio modo diverso di fare musica rispetto ad Occidentalis Karma per esempio con cui ho vinto nel 2017 che è una canzone up tempo è una canzone provocatoria è una canzone che ha un mood diverso da viceversa che sicuramente è più intimista un po' più emozionale e che in realtà ho sempre fatto canzoni chi conosce i miei album è il destino di chi fa una cosa che fa proprio un super botto esatto però esisteva già da prima esatto però ho detto torna a Sanremo con questo brano che in realtà mostra quest'altro il mio modo di fare musica molto bello quest'anno ti facciamo i complimenti è proprio una gran bella grazie e però ovviamente c'era il dubbio di dire tutti quelli che si aspettano Gabbani che ballano la scimmia eccetera eccetera ho detto chissà come reagiscono invece devo dire che la reazione è stata fantastica e anche in termini proprio di classifica sono al secondo posto e poi sono contento perché ha funzionato perché ve lo dico lo dico è la prima volta che lo dici? è la prima volta che lo dici? oppa ho corrotto la sala stampa per non votarmi e che ha detto ma ti immagini se vincevo di nuovo e sto Gabbani che palle va a Sanremo tutte le volte vince quindi diventava anche antipatico senti ma ti è piaciuto il Sanremo di quest'anno? è stato tranquillo non ci sono stati casi non è successo niente in base un'edizione tranquilla un'edizione tranquilla un'edizione tranquilla no in realtà ora a parte non so se possiamo fare i nomi vi riferite a a Tutina di Aspore o ecco di Aspore eccetera Bughexit però è la Bughexit bellissima io sono dispiaciuto in realtà soprattutto di quell'aneddoto lì perché in realtà fa l'altro mi piace tantissimo la canzone è bello anche tutto l'album di Bugo non l'ho ancora avuto modo di ascoltarlo ma immagino vabbè però a parte quel dispiacere lì devo dire che invece io l'ho vissuto come un bel Sanremo un bel festival anche tra i colleghi non c'era devo dire uno spiccato senso di competizione c'era in realtà una bella atmosfera di condivisione però devo dire che sei riuscito a distinguerti perché nell'edizione in cui tutto era tranquillo è arrivato con lo scimmione a fare quel casino quest'anno che tutti facevano un casino tu hai portato una canzone quindi comunque ti si notava preciso ho letto da qualche parte no prima però rispondi alla domanda con cui Matthew Sheeran Matthew Sheeran il fratello di Eddie Matthew Sheeran che fra l'altro mi hanno detto che suo fratello canticchia scrivicchia fa qualche successo ma niente di bisogna fare una battuta no la verità è che mentre stavamo producendo il brano la produzione è a cura di Matteo Cantaluppi in questo brano ci è venuto in mente dato che c'era questa avremmo voluto inserire un'orchestrazione quindi una parte di archi abbiamo pensato a qualcuno che lo facesse in un modo tipicamente inglese si può dire Davide Rossi potevi scegliere però ci è venuto subito il pensiero proprio a mezzo in Cina appunto il fratello di Ed e io ho scoperto contemporaneamente che lui in realtà ha un legame con quella che è la mia etichetta discografica che è BMG Reds Management e quindi siamo riusciti a contattarlo ma in realtà è venuto tutto a distanza gli è stato proposto gli è stata inviata la canzone il provino fra l'altro con gli archi fatti da me finti al compio synth più o meno la linea d'archi e lui è rimasto folgorato in realtà dalla canzone gli è piaciuta tantissimo ha detto faccio volentieri questa cosa ovviamente non ci siamo incontrati se non se non virtualmente virtualmente ed è stata una collaborazione fantastica anche perché lui ha una grande sensibilità dettata dal fatto e dimostrata dal fatto che ha fatto un arrangiamento d'archi che non va a sovrastare in un modo barocco gli inglesi sono bravi esatto è rimasto veramente su un minimalismo che è andato in realtà semplicemente a sorreggere la canzone che c'era quindi lo ringrazio ufficialmente grazie Matthew dicevamo prima che ti sei presentato a Sanremo in un modo un po' diverso e quindi hai detto non vorrei che la gente di questo nuovo Gabbani fosse tanto per fare quelli seri a un certo punto ho letto da qualche parte lo scopo dell'album è stato capirmi cosa intendi dire intendo dire che questo questo album viceversa che arriva devo dire la verità in realtà dopo un po' di tempo dalla pubblicazione del mio album precedente Magellano che è comunque uscito nel 2017 quindi siamo quasi a una distanza di tre anni che nei tempi di uscita oggi discografici sono un'era quasi è un'epoca però la verità è perché questo album in realtà è proprio frutto di un percorso mio personale io sono uno che dopo il successo dopo lo schiaffo che mi è arrivato nel 2017 in positivo ovviamente ho scelto ho capito che per me non era importante a tutti i costi continuare a perseguire questo successo anche in termini numerici ma continuare il mio percorso di analisi personale io cerco la serenità e quindi ho cercato di continuare a capirmi molto serenamente ho portato avanti questa analisi personale ed è venuto fuori questa che poi si è ovviamente declinata nelle canzoni che sono nell'album ed è un album del quale sono contento perché parla infatti di che cosa devo dire che il filo conduttore è un po' il tentativo di interpretare il rapporto tra l'individuo e la collettività tra chi sono e come mi vedono gli altri qual è il mio posto nella società che credo che è un tema che parte da una mia riflessione ma riguarda un po' la vita di tutti di tutti certo cioè chi siamo qual è il nostro senso come mai siamo qua dove andiamo perché siamo in ritardo esatto e insomma è questo è venuto fuori questo album del quale io sono molto contento e soddisfatto intanto perché è un album sincero cosa ti dice la gente quando ti incontra com'era la gente a Sanremo con me incredibilmente affettuosa ma forse non me ne voglio prendere il merito di questa cosa qua ma forse perché io continuo a pormi in un modo talmente non lo so spontaneo autentico vero decostruito destrutturato cioè che è vero e quindi credo che questo arrivi alle persone oltre all'eventuale qualità della musica che faccio ecco ce dico e quindi la presunta sono auto auto ironico anche la probabile però dico è quello e quindi il rapporto con le persone anche a Sanremo per esempio per strada è insomma un bel rapporto diciamo che mi mandano indietro avvalorano il concetto della mia canzone che io gli do tante cose ma insomma viceversa ma scopri anche delle cose che non conoscevi di te che non conoscevi delle tue canzoni di te scopri anche delle cose certo perché capita che sono persone che fanno dei ragionamenti o delle osservazioni su delle canzoni diventano più profondi che dicono quella cosa lì che ti mette davanti a una lettura che ti dici ah caspita non avevo pensato quando tu le riascolti a parte che poi c'è tutta l'ossessione di quando fai un disco dove a un certo punto tu non hai nessuna obiettività su quello che stai registrando perché l'hai sentita così tante volte è vero quindi è fondamentale quando escono fuori le canzoni le persone ti fanno notare cose che tu probabilmente hai perso di vista ho perso di vista ma poi soprattutto io ho un modo secondo me di comunicare di scrivere testi che ovviamente per me partono da un ragionamento che ha un fondamento però poi le formule con cui le esprimo lasciano la libertà di interpretazione personale e quindi poi veramente la canzone diventa di chi l'ascolta e insomma si avvalora nel suo punto di vista senti stai facendo un po' di in store come dicevi oggi te lo ricordo dovresti essere a Bologna oggi ci va infatti dopo parto vado in cammino verso Bologna a piedi domani sei a Roma poi procedi con Chieti Napoli Valmontone Firenze Genova Catania Palermo te li ho dette tutte così lo sai esatto poi cosa succede fai invece un tour anche a Outstore un tour Outstore in realtà per ora ho qualche idea dichiarato in realtà che c'è il primo grande appuntamento per me importante live che però in realtà è tra qualche mese che sarà l'8 di ottobre suonerò all'Arena di Verona purtroppo è quello che sia poi l'inizio di sicuramente una serie di altri concerti che sono ovviamente in via di organizzazione stiamo capendo i dettagli però intanto ecco diciamo che ho messo la bandierina sul fatto che l'8 di ottobre suonerò all'Arena di Verona che per me ovviamente ha un grande significato non solo per la piacevolezza di suonare in quel posto ma anche credo che sia simbolicamente insomma un bel passo nel percorso nel mio percorso artistico senti ma come scrive Gabbani guardando il mare dove sei pensavo se in stampatello è in cursivo tu puoi guardare il mare guardare le alpi appuane dietro esatto cioè puoi startene chiuso in studio ma Gabbani non ha un metodo quando non ha un metodo di scrittura sicuramente anche io scrivo ovunque perché poi alla fine le canzoni più nascono quando meno te ne accorgi quando non le cerchi più o meno io ho capito questa cosa quindi non c'è un metodo sicuramente quello che ti dicevi tu quindi il mio luogo di origine che è Carrara quindi questo che è ambientalmente particolare perché è divisa a metà tra le montagne e il mare a distanza di 7 km a me mi piace dire e fra l'altro vi do una chicca perché c'è nella versione deluxe dell'album non lo potrei dire perché dovrebbe essere una sorpresa ma la diciamo c'è una ghost track quindi una traccia fantasma che si intitola l'amico Fritz e che parla che sono io il mio alter ego e parla proprio anche di Carrara c'è una frase bella che dice sopra la montagna vedi il mare che bagna con i piedi in mare ci sono monti da scalare cioè nel senso quindi c'è questa questa varietà di paesaggistica che sicuramente ha sempre contribuito alla mia bella questa che avevi di lettura montagna e mare questo è incredibile la cosa più bella è stare nell'acqua del mare e guardare le montagne le alpi apuane è una cosa stranissima bello bello ho detto non l'ha detta lui non l'ho detto io va bene viceversa il nuovo album di Francesco Gabbani ascoltiamo il sudore ci appiccica che sarà il probabile prossimo singolo lo possiamo dire chissà potrebbe darsi potrebbe darsi Francesco grazie mille in bocca al lupo Francesco grazie a voi e viva il lupo ciao a tutti baci grazie a tutti